Buonasera, eccomi qui. Dunque, faccio questo video perché, vabbè, è da tanto che non ne faccio uno e sì, sono sicura che starete tutti dicendo, ma potevi anche continuare a non farne. Beh, effettivamente sì. Comunque, il video in questione lo faccio perché ormai YouTube è completamente rinnovato in tutti i sensi. Rinnovato per me non significa che sia bello, anzi, ho dovuto mettere anche io la nuova grafica perché ormai a breve sarebbe stata introdotta su tutti i canali, quindi perché aspettare l'ultimo giorno? E devo dire che fa schifo, cioè io ho un canale così schifoso, non penso di averlo mai avuto da quando mi sono iscritta nel 2008, credo. Bene, vabbè, la grafica deve essere integrata con Google+, a quanto pare, social network che io odio, è veramente orribile, non si capisce niente, è ancora peggio nei tempi in cui uscì Facebook, che sembrava di entrare in un altro pianeta. Quindi devo dire che questa nuova grafica la trovo veramente orribile. La trovavo orribile prima quando l'avevo provata tempo fa e adesso che è ufficiale devo dire che la trovo anche molto disordinata. Cioè, non mi piace, fa schifo. E questo è uno dei tanti motivi per cui non sopporto YouTube. Poi, secondariamente, che dire, ormai abbiamo pubblicità ovunque, quindi canali partner, canali Vevo, quindi dove troviamo, che ne so, i video musicali dei nostri artisti preferiti. Prima di vedere un clip ci dobbiamo sorbire dai 10 ai 30 secondi di pubblicità, quando ci va bene. Quando ci va male dobbiamo anche vederla sulla destra della pagina del canale. E, come se non bastasse, se non ci sono i 10, 20, 30 secondi di pubblicità in anteprima al video, abbiamo anche qui, in questa zona, un piccolo bannerino da chiudere con una freccina. Questo solitamente è nei canali partner. Una volta si vedeva solo sto bannerino a destra ed era finita lì. Adesso no. Adesso tutti i canali partner sono pieni zeppi di pubblicità. Io non ce l'ho con chi ha la partnership, assolutamente, perché, insomma, YouTube te la dà, tu te la prendi, la partnership. E, logicamente, bisogna sottostare a delle regole, cioè avere la pubblicità ficcata anche nel buco del culo. Scusate se ve lo dico, scusate se sarò poco, come dire, educata in questo video, ma sinceramente ci sono troppe cose che stanno andando a rotoli, troppe cose che mi fanno girare le palle. Poi, un'altra cosa, ormai, i video su YouTube la maggioranza li fa solo per avere visualizzazioni, per avere scritti. non vedi più dei video utili che ti insegnino qualche cosa, ovvero, ci sono, ma veramente pochi. Ad esempio, se noi digitiamo, che ne so, sulla ricerca iPad, no? Così, vediamo un sacco di unboxing. Pieno. Pieno. Pieno zeppo. Qua addirittura sembra che ci sia un castoro, non so che che fa, o forse un gatto. Non lo so, comunque, ah sì, 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 Veterinary Life, lo conosco, tra l'altro. Vabbè, questo è divertente. Però, sostanzialmente, qua ci sono tutti gli unboxing. Ovviamente, anche se dovessimo digitare iPhone, verrebbe fuori di tutto. Cioè, ormai, uno fa il canale su YouTube per fare gli unboxing anche della confezione delle mutande della nonna. Non so, è venuta questa mania degli unboxing. Unboxiamo questo, unboxiamo quest'altro. Non so, stappiamo la bottiglia d'acqua, vediamo come si unboxa anche la bottiglia d'acqua. E io penso che comunque, stiamo veramente esagerando, io penso che questi unboxing servano solo per dire, rosicate ragazzi che io mi sono comprato un iPad, un iPhone, un iMac, quel cavolo che è. Alla fine, fare anche rosicare gente che non si conosce. Boh, almeno io, se volessi fare rosicare qualcuno, non so, qualche, tra virgolette, amico che mi sta sulle palle. Una cosa di questo genere, magari, no? Cioè, se tu devi aprire un canale per fare l'unboxing di un dispositivo, quasi sempre Apple, perché ormai a 90%, di cosa si fa lo spacchettamento di un prodotto Apple, che ormai non ha nessuno. Cioè, ormai tutti hanno qualcosa dell'Apple, che sia un iPhone, che sia un Apple Shuffle, quello che costa meno. Cioè, ormai è così. Non so, cioè, YouTube è diventato media shopping in versione web. Cioè, ormai, io penso che arriveremo anche al punto che su YouTube si faranno acquisti. Perché, scusatemi, ma con tutte queste recensioni di prodotti, anche, ma non solo tecnologici, ci sono anche canali tipo, vabbè, quello che viene in mente per primo è la famosa Clio Makeup, che non ho mai seguito e mai seguirò perché mi so truccare da me, non ho bisogno di una deficiente che mi dice come truccarmi gli occhi, che mi fa pure cagare come lo fa. punti di vista, magari a qualcuno piace come insegna. Però, arriveremo anche al punto di comprare prodotti anche di questo genere, anche prodotti di bellezza, queste cose qua, no? arriveremo al punto che entreremo in un canale, poi fai acquisti. Cioè, e quindi, non so, forse YouTube diventerà un giorno partner di eBay. Cioè, rendiamoci conto che YouTube ormai è cambiato tantissimo, ma anche perché le persone che lo frequentano sono cambiate tantissimo e, a mio avviso, sono diventate proprio assurde. Ecco, qui, ad esempio, digitando iPad, mi sono venuti fuori 320.000 risultati. 320.000 risultati, di cui probabilmente il 90% di unboxing. e quindi, insomma, YouTube, che letteralmente significherebbe tuo tubo, no, non tuo tubo, tu sei un tubo, in poche parole, ormai è diventato, non so, QVC in versione computer, insomma. E che devo dire? Trovo davvero pazzesca tutto questo schifo. Poi adesso, altra cosa che ha sempre introdotto YouTube e che dà fastidio a molti, il fatto che le iscrizioni siano diminuite. Sono diminuite perché magari i tuoi iscritti hanno chiuso il canale, il loro canale, non ti seguono più, o chissà che altro. Quindi tutti quanti abbiamo subito, diciamo, delle perdite, diciamo così. E quindi molti sono incazzati perché magari, cavolo, erano quasi arrivati a mille iscritti e invece adesso se ne ritrovano, che ne so, 800 per dirne una. Ma io penso che questa sia una cosa molto utile. Nel senso che prima tu ti ritrovavi nei commenti iscritto, ricambi, iscritto, ricambi. Ma vaffanculo! Cioè ma veramente non se ne poteva più tutti questi cretini bimbiminchi, iscritto ricambio. Adesso vaffanculo perché se io anche ricambio e non ti seguo, YouTube leva l'iscrizione. Quindi bimbiminchi è idiota, idiota deficiente. Adesso la mia iscrizione, se anche ti accontento, ti do il contentino, povero deficiente, ti ritrovi sempre con un'iscrizione in meno. Sì, mi iscrivo e resto iscritta magari per un mese. Poi YouTube vede che io nel tuo canale non c'entro mai perché mi fa cagare e toglie l'iscrizione. Quindi è meglio, queste cose qua invece vanno benissimo. avrebbe dovuto farlo già da prima, ecco. Perché comunque ci sono dei canali con dei video senza senso, con mille, duemila iscritti e tu vai a vedere questi canali, hanno dei video veramente schifosi, senza senso. Sempre punti di vista, io li trovo senza senso. Mi ricordo sempre un deficiente che mi aveva preso di mira, che aveva avuto 12 anni, ci aveva mille e passi iscritti, passava praticamente la giornata a girare sui canali di YouTube a chiedere iscrittori cambio. Cioè, dai. Questa forse è l'unica cosa intelligente che ha fatto YouTube. Per il resto, uno, grafica di merda. Due, pubblicità che ancora un po' quando esci da YouTube te la vedi ancora davanti agli occhi. Poi, utenti che non fanno altro che boxare di tutto, anche il tubetto, il dentifricio, non so. Io penso che siamo veramente arrivati non alla frutta, ma proprio alla tovaglia su tutte le bricciole del pane da prendere, raccattare e buttare. Cioè, se questo YouTube siamo veramente messi male. E non me ne frega niente se ci sarà qualcuno che dirà che sono stata scurrile o che altro. Cioè, cazzi vostri, siete venuti a vedere il video, nessuno vi ha obbligati. E comunque, sempre meglio il mio video piuttosto che stare qua a fare gli unboxing di chissà che. Cioè, dai, veramente. Ma che schifo è diventato YouTube? Cioè, YouTube adesso è brutto fuori, è brutto dentro. Veramente, sono schifata. Chissà se farò altri video come li facevo prima. Ma, chissà, forse farò un video di addio dove dirò addio al tubo. E poi magari tornerò dopo due giorni. Vabbè. Lasciamo perdere. 12 minuti a dire cazzate. No, cazzate no. Penso di aver detto delle cose che sono anche fin troppo veritiere. E quindi, vi lascio. Vi lascio e ci vedremo forse al prossimo video.